Sì, sono molto contenta, oggi è stata veramente dura, è stata una battaglia fino all'ultimo giro con Giorgia e poi sono riuscita a arrivare prima e sono molto contenta anche perché è stata una giornata molto positiva per il mio team con quattro maglie da leader su sei, quindi siamo tutti molto contenti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie